Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi, location fantastica per far volare il Fimi X8. Siamo alle Rocchette, una delle più belle spiagge della Maremma, a Castiglione della Pescaia. Una spiaggia veramente fantastica, con un colore dell'acqua. Per guardare ragazzi, tanta roba, è un posto meraviglioso. Quindi adesso prepariamo tutto ed epoliamo col Fimi X8 in questa fantastica location, che è la spiaggia delle Rocchette. Ok ragazzi, stiamo andando alla location per far volare il drone, perché secondo me la location ideale per far volare il drone è lì in alto. Quindi adesso continuiamo l'arrampicata e arriviamo alla location. Questa ragazzi era una vecchia pesa, dove pesavano i pesci, i pescatori. Adesso praticamente non è rimasto più niente, però la location è questa. O meglio, la nostra piattaforma di decollo oggi sarà questa. E adesso decolliamo col Fimi X8 in questa fantastica spiaggia. Fimi X8 in questa fantastica spiaggia. Fimi X8 in questa fantastica spiaggia. Ok ragazzi, il video con il Fimi X8, qua la spiaggia delle Rocchette è finito. Fimi, tanta tanta roba ragazzi. Con tutti gli aggiornamenti che ha ricevuto adesso è un drone non incredibile. Di più, un prezzo pazzesco per prestazioni pazzesche. Ragazzi, ditemi voi che la location sicuramente ha messo in mostra le qualità di questa fotocamera, che è veramente ottima. Ragazzi, questo è un drone, paura. Con tutti gli aggiornamenti, adesso anche la stabilità di volo, l'overing, tutto è migliorato in maniera esagerata. E il prezzo comunque ragazzi è bassissimo. Quindi ragazzi, se questo video in cui vi ho fatto vedere ancora una volta le prestazioni pazzesche di un drone pazzesco alla spiaggia delle Rocchette, qua in Maremma, vi è piaciuto lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale Telegram Offerte se non l'avete ancora fatto e se vi va. E ci vediamo ragazzi su questo canale YouTube, per le prossime video, recensioni o teste. Ciao!